La medaglia d'oro salvo d'acquisto Esempio dell'eroismo che anche i padri di questi ragazzi testimoniarono Il d'acquisto si immolò per 23 ostaggi Alla splendida parata assistono gli addetti stranieri Le pare l'accompagnino le parole del messaggio di Einaudi Che si felicita dei nuovi riconoscimenti tributati Al senso di abnegazione dei carabinieri Anche il ministro della difesa Taviani è presente Nel ritmico carosello si traduce ora la disciplina della fedelissima Grazie